Ti posso chiedere una cosa? Avanti. Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire? Che te lo dico a fare significa... Se tu sei d'accordo con qualcuno, ti fai rec il welch e proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dico a fare? Invece, se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dico a fare? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, menchia, sti peperoni, che te lo dico a fare?